Ok, allora io incomincio a registrare, se nessuno ha niente di... niente in contrario. E poi chiuderei i microfoni in modo tale così da lasciare solo chi parla, magari. Magari anche... comincio io perché la Rita non poteva stasera, la Rita Firani mi ha chiesto di... se potevo presentare io la serata. E niente, io butto lì una serie di proposte, una proposta di lavoro in modo tale che proviamo a cominciare concretamente a lavorare su questi temi. Allora, noi abbiamo bisogno stasera di cominciare a parlare di contenuti, ma soprattutto dobbiamo darci una struttura di lavoro perché altrimenti rischiamo di non essere... di non andare da nessuna parte se non strutturiamo il lavoro che vogliamo fare. E sulla base della discussione che abbiamo fatto settimana scorsa e del volantino piattaforma che ha convocato il coordinamento territoriale dell'Odigiano per il diritto della salute, ci sono due questioni, due macro temi che vanno affrontati. Uno è quello il più urgente che abbiamo, è quello che domani mattina ci viene annunciato che ci sarà una nuova pandemia. Domani mattina vuol dire che nell'autunno si prevede che ci sia un ritorno del Covid e potrebbe essere una cosa, tutti speriamo assolutamente che sia una cosa più soft, ma potrebbe essere che invece incappiamo ancora in una situazione drammatica e quindi non possiamo farci trovare impreparati come il sistema si è trovato impreparato precedentemente. Quindi noi abbiamo bisogno subito, almeno questa è la mia proposta, di strutturare un percorso di lavoro di questo gruppo di approfondimento rispetto alle questioni che dovremmo affrontare in autunno. Noi dobbiamo essere efficaci per poter uscire pubblicamente entro la fine di luglio, ecco, realisticamente con un lavoro pensato e quindi questo gruppo di lavoro deve capire che cosa proporre, una piattaforma e poi costruire una mobilitazione che abbia un senso rispetto al portare a casa un risultato importante per la tutela della salute dei cittadini dell'Odigiano. E io penso che questa sia la questione principale su cui dobbiamo lavorare in questo periodo. C'è la seconda questione che è emersa nella discussione l'altra volta, nel coordinamento, che è quella della rete ospedaliera. Non che questa questione non debba essere affrontata, però sicuramente ha dei tempi un po' più ragionevoli dal punto di vista dell'essere aggredita da domani in avanti. Ed è una questione assolutamente importante, anche molto onerosa dal punto di vista dell'essere affrontata, perché conosciamo poco il problema. Abbiamo, Bricchi l'altra volta aveva fatto una fotografia di quello che c'era prima del Covid e di quello che c'è adesso. Costantino Bolli ha posto tutta una serie di problemi dal punto di vista di su quale rete ospedaliera dobbiamo orientarci. Zambra Emiliano aveva tirato fuori il tema della necessità di lavorare sui servizi territoriali e quindi di cambiare l'ottica con cui abbiamo lavorato fino adesso o abbiamo pensato fino adesso alla struttura della rete ospedaliera. Insomma, Grazio aveva posto dei problemi dal punto di vista dell'RSA, quindi un temi assolutamente di rilievo per la tutela della nostra salute, ma è un momento di lavoro che ci vedrà impegnati con costanza e con approfondimento molto più a lungo. Mentre noi abbiamo bisogno per fine luglio, massimo primi di agosto, di essere pronti perché da settembre in avanti questa piattaforma, questo documento di contenuto e di richieste possa essere agito nelle sedi opportune, quindi nei confronti delle istituzioni, nei confronti dei sindaci, ma anche dentro, su luoghi degli ospedali, anche con manifestazioni, con presenze fisiche, con presidi, eccetera, eccetera. E quindi da questo punto di vista abbiamo bisogno di mettere a punto le cose di cui abbiamo bisogno per domani mattina. Tra l'altro non dobbiamo inventarci niente, io non so, partirei dal fatto che abbiamo nella piattaforma individuato alcuni elementi e vi pongo alla discussione di stasera che vanno approfonditi. Lì nella piattaforma abbiamo scritto che ci sono dei protocolli per gestire la sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle strutture sociosanitarie, RSA, centri disabili, centri dell'accoglienza, eccetera. Nella normale vita quotidiana di tutti noi. Ci sono dei protocolli, delle indicazioni, il problema è conoscere bene questi protocolli e come farli rispettare, chi li rispetta e quale azione possiamo fare noi perché questi protocolli vengono rispettati. Vi ricordate la questione del protocollo sul posto di lavoro, sta venendo fuori da Bartolini, che è un luogo di lavoro importante, ha un sacco di Covid, lo stesso nelle filiere dove si macella la carne e si trattano gli animali morti. Oggi leggevo che a Parma in una ditta ci sono 30 persone positive a collegno, tra l'altro con lavoratori provenienti dalla bassa dell'Odigiano, dicono sui giornali. Quindi noi abbiamo bisogno di approfondire questa roba e consapevolezza che queste cose sono importanti e che vanno richieste, ma dobbiamo capire come vanno richieste, chi fa la verifica e come noi possiamo agire la nostra forza di cittadini e cittadine nei confronti di queste persone che devono fare la verifica. Lo stesso nelle strutture sociosanitarie, perché molti dei parenti si stanno ribellando per il fatto che non possono ancora andare a vedere i loro parenti, non tutte le case di riposo, assolutamente i centri residenziali per disabili non stanno aprendo ai parenti, eccetera, eccetera. Anche questo è un'indicazione che ci è stata data nella discussione e dobbiamo prenderne in mano. La seconda questione a livello territoriale è che noi dobbiamo garantirci che ci sia una struttura territoriale per la presa in carico delle persone affette da Covid se nel turno ritorna la pandemia. Non possiamo più pensare che i cittadini di Lodi siano girati nei vari ospedali e vadano a finire in posti. Ho sentito stamattina, parlavo con uno, il padre è stato ricoverato all'Aquila, per dire non può più esiste questa cosa. Noi abbiamo bisogno che nel nostro territorio ci sia una struttura o più strutture territoriali, dobbiamo saperle indicare. Ci vuole questo polo territoriale. Ci vogliono servizi di medicina territoriale. I medici non possono più essere lasciati da soli, bisogna costruire collegamenti, bisogna indicare quali devono essere collegamenti, bisogna che ci siano gli infermieri ancora di più di quelli che ci sono adesso e che funzionino le famose USCA nel numero adeguato così come previsto tra l'altro dal decreto nazionale e che quindi la regione lombardia si deve da fare perché anche nel nostro territorio ci sia un numero adeguato di USCA. Che ci siano dispositivi sufficienti per il personale e per i medici di medicina generale. Leggevo stamattina che la sindaca di Crema ha scritto una lettera al presidente della regione lombardia dicendo di voler mettere a disposizione un ex ospedale psichiatrico dismesso, mi parlo di un ospedale psichiatrico dismesso, per fare un prest. Quindi il comune di Lodi si dona questo, mette a disposizione questo luogo fisico per la regione lombardia, per la SSP e la TS per fare un polo territoriale adeguato per il Covid-19. Noi dobbiamo provare a pensare a questa cosa sull'Odigiano e a capire che proposte facciamo. Finisco con il fatto che bisogna avere i pronto soccorsi differenziati, quindi il pronto soccorso pulito diviso da quello dal Covid e che non ci sia il disastro che dicevo prima con qualcuno che si è collegato che denunciava stamattina al cittadino che il pronto soccorso pulito, la gente per accedere al pronto soccorso sta sotto il suo lattone di questi giorni, ma io l'ho visto sotto l'acqua di un mesetto fa, nel cortile di accesso al pronto soccorso e quindi entra uno per volta e gli altri 50-100 persone che sono in fila al pronto soccorso sono tutti per strada, sono nel cortile e in strada sotto il sole. Questa cosa non può esistere, insomma, quindi dobbiamo indicare e lottare anche perché questa cosa non ci sia. Nessuno ci regalerà niente. Ci devono essere le terapie intensive, subetensive adeguate al numero delle persone che si possono ammalare e il personale specialistico. Dico queste cose che sembrano anche in relazione a una sollecitazione che aveva fatto Bodis all'altra volta, che non ci sono infermieri eccetera. Però il decreto, magari poi Bricchi lo puoi illustrare, nel decreto rilancio sono previsti dei soldi per tutte le regioni e la regione Lombardia ne ha avuti 225 milioni per differenziare i pronto soccorsi, per fare più terapie intensive, per assumere personale adeguato a questa fase. Quindi noi abbiamo bisogno di mettere in fila tutte queste cose e come dicevo prima, l'ultimissima questione che volevo segnalare e che mi sembra quella ancora più urgente di tutti per cui dovremmo uscire domani mattina. Non so se avete visto l'annuncio Gallera è venuto a Lodi insieme a Foroni, al presidente della provincia, alla nostra sindaca di Lodi, a Gussori e un altro deputato che non mi ricordo mai il nome, tutti della Lega e hanno annunciato che da questo mese, da luglio fino ai primi di settembre, sono previsti test sierologico e tampone nello stesso momento, ti fanno il test sierologico e poi ti fanno subito il tampone e fino adesso hanno aderito tra i 40 e 42 comuni su 62 nell'Odigiano. Sul giornale c'era scritto che alcuni comuni faranno pagare 10, 15, 20 euro, altri invece faranno gratuito. Ecco, io penso che questa debba essere una battaglia che dobbiamo affrontare subito. Non si capisce perché 20 comuni dell'Odigiano non ci stiano a fare i test sierologici e il tampone a tutta la popolazione, ma poi dobbiamo anche capire come verrà estesa questa fase perché dobbiamo garantire che a tutti venga fatta, italiani, stranieri, persone che sono per strada, eccetera, eccetera. Cioè tutti devono accedere, tutti devono accedere in modo gratuito o quantomeno con una cifra aggredibile. Io ho finito. Non so, chi vuole prendere la parola possiamo attivare la chat e Antonio Muscolino magari dà la parola. Ecco. Io volevo riprendere il primo argomento che ha citato la Silvana facendo questa considerazione. uno potrebbe immaginare che, dato che la vicenda dei mesi scorsi ha spinto le strutture sanitarie a produrre una qualche risposta e a, diciamo, riuscire a fermare o comunque a ridurre drasticamente la situazione di crisi, uno potrebbe immaginare che siamo a posto. Cioè se quest'autunno ritorna la pandemia in modo pesante dovremmo essere già pronti. e secondo me non è per niente così. E cito alcuni dati che mi fanno pensare che non è per niente così. Certamente non siamo nelle condizioni delle fasi iniziali della crisi, ma il problema non può essere visto in questo modo. Il problema va affrontato in modo programmatico. Cioè qual è il programma della SST di Lodi rispetto all'eventualità di una recrudescenza del virus in autunno? Cioè quali sono le direttrici operative adeguate a una situazione analoga a quella di inizio crisi? E da questo punto di vista ho fatto questo ragionamento. Consideriamo le emergenze critiche che ci sono state. Nella prima fase le emergenze critiche sono state quelle delle zone rosse. Per fortuna nel nostro territorio la zona rossa della parte meridionale della provincia ha funzionato. E in effetti quando è stata aperta la zona rossa eravamo a zero contagi. Quindi però il problema delle zone rosse c'è stato. Tant'è che appunto nella Bergamasca la situazione è stata un disastro. C'è stato il problema della mancanza dei protocolli di sicurezza. Perché i protocolli di sicurezza non sono stati sviluppati subito e imposti immediatamente. Così che ne è successo, sono successi casini, difficoltà straordinarie sia sul piano territoriale che nei luoghi di lavoro, nei pronto soccorsi, negli ospedali, nell'RSA. Quindi i contagi e le difficoltà lì si sono moltiplicate. E questa è la prima fase. Nella seconda fase, gli elementi di emergenza e di difficoltà sono quelli dei controlli e dell'emersione dei nuovi focolai. Io ho provato a indagare quanti sono stati i focolai nella fase attuale. In particolare dagli ultimi giorni di giugno e nei giorni di giugno. Ci sono stati in Italia 19 focolai. 15 focolai sono legati all'attività lavorativa. Ci sono 7 aziende produttive che hanno avuto focolai. 2 logistiche che hanno avuto focolai. Ma chi ha preso? Che è iniziato a fare le due chiamate? Non ti sentiamo più. Non ti sentiamo più. Qualcuno ha spento il mio microfono. Peppo spegne il microfono, se non interferisce. Dicevo, 7 aziende produttive, in totale 19 focolai che ho trovato in internet. 15 di questi focolai sono legati all'attività lavorativa. 7 aziende produttive, 2 logistiche, 2 lavoratori in trasferte, 2 causati da lavoratori in trasferte, un'azienda agricola, un supermercato, un ospedale. I contagi denunciati dall'INAIL sono 47 mila, cioè tutti registrati nei luoghi di lavoro. E quanti sono i contagi di ritorno dei luoghi di lavoro? Di questo non si può contare nulla, perché non sappiamo quale sia la conseguenza del fatto che 47 mila lavoratori sono stati contagiati e sono tornati a casa contagiando a loro volta. Quindi la seconda fase, quella attuale, è in condizione assolutamente critica. Non ne parla nessuno. Ogni tanto si parla di focolai, ma non si affronta la questione di quali siano gli elementi che determinano questo quadro. Allora, se le cose stanno così, è ovvio che la SST deve definire un programma di prevenzione per il possibile ritorno alla pandemia in autunno. E deve fare questo programma a partire dalle condizioni critiche, ovvero dai luoghi di lavoro, prima di tutto dai luoghi di lavoro, e guardando i luoghi di lavoro, sempre prendendo a riferimento i dati dell'INAIL, si scopre che i luoghi di lavoro più colpiti sono gli ospedali, sono le case di riposo, cioè sono le strutture sanitarie che dovrebbero essere quelle più garantite. E poi ci sono anche le attività produttive. Allora, qual è il piano della SST al riguardo? Noi dobbiamo definire delle rivendicazioni precise al riguardo su questa questione, chiedere alla SST un'azione programmata che affronti queste problematiche. Affronti problematiche così come si sono presentate in termini di emergenza drammatica nella prima fase e attualmente nella seconda fase. Ma particolarmente la SST deve garantire la piena funzionalità delle strutture che sono già in grado di agire territorialmente. Deve fare un programma di lavoro per il polo territoriale. Deve attivare il PREST, in realtà i PREST nel nostro territorio sono scritti sulla carta e basta. Il presidio ospedaliero territoriale di Sant'Angelo è quasi scritto sulla carta perché è inattivo. Le attività di medicina generale devono essere coordinate e non vedo nessun programma di coordinamento tra PREST, POT e medici di medicina generale. Le USCA, unità speciali di continuità assistenziale, devono essere a loro volta connesse a tutta questa struttura. Qual è il piano di funzionalità della SST per l'eventualità che in autunno si verifichi di nuovo una difficoltà, speriamo, non paragonabile, o speriamo che non si verifichi per niente, ma dobbiamo ovviamente prepararci. E ovviamente questo discorso vale poi per il polo ospedaliero. Bisogna quindi che ci sia un piano di lavoro, un programma preciso da parte dell'SST al riguardo. Non pretendiamo ovviamente come coordinamento di insegnare alcunché ai tecnici che devono occuparsi di queste cose. Certamente noi poniamo il problema dal punto di vista della necessità della salute dei cittadini e dei lavoratori. Di conseguenza presenteremo il lavoro da fare come gruppo di lavoro e proprio quelli di individuare esattamente delle proposte concrete e tra l'altro sarebbe importante confrontarsi sulla base di queste proposte con tutti quelli che su questo terreno si stanno muovendo, con i sindaci che hanno ipotizzato delle rivendicazioni secondo me molto ardite come quella di modificare la struttura TS attuale, ma comunque insomma che pongono il problema della tutela della salute dei cittadini. Quindi dobbiamo proprio fare questo lavoro ed evitare che l'attività di tutela della salute sia lasciata a specialisti ipotetici, a strutture esistenti che hanno dimostrato nei mesi scorsi scarsissima efficienza. Non solo, ma che per esempio sulla questione dei nuovi focolai mantengono una condizione di inconsistente attività. Cioè sui nuovi focolai semplicemente vengono presentati uno per uno, non so neanche se tutti siano stati elencati, quelle che io ho riscontrato, ma certamente le azioni di controllo sono uno degli elementi che fanno venire il dubbio che in realtà i controlli che non ci siano, siano assolutamente insignificanti e inconsistenti. Tra l'altro appunto il decreto relativo ai controlli ipotizza addirittura che per effettuare queste verifiche siano messe a disposizione non solo il rispetto del lavoro e le strutture sanitarie, ma molti altri soggetti, compresa per esempio la polizia locale, eccetera. Comunque in sostanza noi dobbiamo assolutamente costruire un insieme di rivendicazioni realizzabili, concrete, che facciano fronte alle difficoltà probabili, sicure, se ci sarà il ritorno di una situazione critica, ma probabili in generale e tenere conto che queste cose devono essere predisposte perché la capacità di far fronte alle pandemie non può essere un fatto occasionale accidentale o limitarsi a programmazioni generali datate a 5, 6, 10 anni fa e poi mai più aggiornate. Ma devono essere una preoccupazione costante. Ho finito. Grazie. Dunque adesso io avevo in contemporanea Samuele Garini, che mi pare abbia alzato la mano, e Giand. Non so chi vuole parlare dei due. Sono Giandiego. Ok. Molto rapidamente, io non voglio entrare nel merito di un discorso che sta crescendo, sono d'accordo in linea di principio, però quello che mi lascia molti dubbi ancora adesso è il fatto che noi si stia centrando ancora e solo il discorso del Covid. Non c'è solo il Covid. Esiste una situazione drammatica per i cronici, che sono stati abbandonati praticamente e completamente a se stessi. Esiste una situazione drammatica per i disabili, per i fragili. Secondo me, se noi puntiamo sui sintomi, come peraltro fa la medicina, e non parliamo delle cause, rischiamo di fare un discorso nuovo. Il lavoro di report, per esempio, su quello che ha facilitato la diffusione del Covid, cioè sull'ambiente, su livelli di inquinamento, sui fanghi, sugli allevamenti intensivi, è un lavoro importante che non può essere ignorato solo perché dobbiamo pensare solo alle terapie intensive. Sanità è una cosa particolata, complessa, grande. Io avevo salutato e saluto con grande gioia l'intervento di medicina democratica a questo livello perché ritengo che il discorso di medicina democratica sia ampio. Se però noi continuiamo a restringere, per carità, è importante, è importantissimo il contagio di ritorno, è fondamentale un discorso che io condivido in piedi. Però non c'è solo quello. La realtà è che, per esempio, i cronici sono stati mollati completamente. Ovviamente abbiamo appuntamenti per cardiopatici, per persone che hanno problemi di vista, per persone che hanno problemi di tumori e cose di questo tipo, che sono stati rimandati di un anno, un anno e mezzo. Questo ha portato e porta un sacco di gente a non curarsi, mentre noi continuiamo a pensare soltanto a quello che potrebbe succedere. Mentre quello che sta succedendo è che i cronici non vengono curati. Ho finito, grosso modo. Poi magari rinterverrò ancora. Sì, grazie. Allora, io credo che effettivamente questo è uno degli argomenti assolutamente che bisognerebbe, sì, affrontare, perché la questione delle liste d'attesa adesso si sta riaprendo, ma con allungamenti enormi, appunto, perché è cambiato dal punto di vista anche organizzativo. Io lo vedo nella mia SST, i tempi di attesa si sono notevolmente aumentati rispetto al pre-Covid, appunto, per varie motivazioni. E questo è ovvio che poi addirittura incentiverà chi avrà la possibilità, ancora una volta, di dirigersi verso il privato, il quale privato probabilmente avrà ancora una volta la possibilità di avere mano libera per, diciamo così, focalizzarsi su quello che conviene loro, o, appunto, e basta. Dunque, Samuele Garini, voleva... Sì, allora, io intervengo adesso perché purtroppo non mi potrò trattenere a lungo perché domani ho il primo turno e quindi devo andare a letto presto. No, volevo fare un ragionamento che ci dia, diciamo, quello che realmente noi vogliamo ottenere da questo coordinamento e dal nostro impegno civico. Cioè, noi ci stiamo preoccupando per il probabile contagio di ritorno e sui suoi effetti sulla gente, sulla sua salute. Però, esattamente, noi che cos'è che vogliamo veramente che non si riverifichi? Secondo me, dobbiamo chiarire questo aspetto, perché una cosa che sicuramente vogliamo che si eviti sia un secondo lockdown. In primo, perché il nostro Paese non se lo può assolutamente permettere, in quanto le ripercussioni economiche sarebbero gravissime, ma soprattutto anche perché gli stessi cittadini non lo vorranno e molto probabilmente non lo rispetteranno nel caso sarà riproposto. Ho parlato con molti commercianti, con quei lavoratori stessi che lavorano con me, che sono... la loro preoccupazione del lavoro, cioè, tra l'altro, sono pure in cassa integrazione per questa cosa qua, è proprio questa. Cioè, noi vogliamo continuare a lavorare, nonostante c'è una seconda ondata, preferiamo che si scelga l'immunità di gregge, piuttosto che la chiusura. E questo, probabilmente, questo discorso monterà molto fra le persone, perché la paura dell'effetto del dopo lockdown è peggiore del covid stesso, probabilmente. Quindi, in sostanza, quello che secondo me noi dobbiamo chiedere, studiare e ragionare è un piano di prevenzione, un protocollo da applicare in maniera efficace ed efficiente con tutti i mezzi disponibili che il nostro sistema sanitario ha a sua disposizione per riuscire a gestire una seconda ondata per quanto grave possa essere senza nessun bisogno di confinamento o chiusura territoriale, quantomeno. Ma che l'isolamento sia esclusivamente di tipo individuale e delle cerchie di persone che sono entrate in contatto con l'infettato. Quindi, poi, le esperienze che ad esempio mi vengono in mente, dei paesi, per l'appunto, che hanno semplicemente applicato il protocollo della SARS all'esperienza del covid, quindi non hanno fatto nessun tipo di lockdown, ma hanno applicato un rintracciamento a tappeto sulla popolazione, una diagnostica immediata e veloce per quanto riguarda i sintomi e soprattutto l'isolamento che sono ad esempio, che ne so, Singapore oppure la Corea del Sud o nel nostro piccolo, diciamo così, o nella nostra forma deviata l'esperienza che ha fatto la regione del Veneto che si muove sostanzialmente su questa linea, cioè sulla prevenzione tramite i test, tramite i tamponi e tramite l'isolamento specifico. Quindi, secondo me, ecco, dovremmo partire da questa cosa. Cioè, noi vogliamo, io, e spero tutti voi, evitare questa cosa. Quindi, dobbiamo richiedere al nostro sistema sanitario di avviare già da adesso praticamente un rintracciamento. Ad esempio, gli spostamenti aerei, l'isolamento e il test a tutte le persone che possono viaggiare. Ovviamente questa cosa qua richiede soldi e richiede sinergia. E quindi, per quanto mi duole dirlo, come dire, soprattutto per quanto riguarda la Lombardia, che è la regione del business della sanità, in cui la sanità fa i soldi, come si dice, e quindi è praticamente strutturata sul modello privatistico, imporre alle autorità competenti una stretta sinergia e una stretta collaborazione tra le strutture pubbliche e le strutture private per applicare dei programmi di prevenzione. Sulla sorta dell'esempio spagnolo, o quantomeno per evitare l'intasamento degli ospedali, utilizzare le cliniche private come strumento per i malati cronici già messi nelle strutture pubbliche. Questi sono alcuni esempi che sono avvenuti durante questa fase pandemica che possono, secondo me, essere utili. Però, quello che volevo chiarire e che volevo discutere con voi era se l'obiettivo che noi vogliamo è questo, principalmente. Grazie. Grazie. Allora, ha chiesto Andrea di intervenire per una precisazione. Prego. No, rispetto all'intervento di Gian Diego è ovvio che non si può pensare alla gestione di un'eventuale ripresa della pandemia solo riguardo a quel problema. Cioè, l'obiettivo nostro è la salute come diritto e ovviamente il diritto alla salute c'è per quelli che incontrano il virus ma deve esserci assolutamente per tutti gli altri. Cioè, nel programma della SST deve essere assicurato lo svolgimento del servizio sanitario ordinario sociosanitario ordinario come anche del servizio anti-Covid. Non è che possiamo pensare che siccome c'è il virus in giro allora tutto viene concentrato sull'ospedale di Lodi si chiude il pronto soccorso di Codogno la gente che ha tutte le altre patologie sono messe in sospeso eccetera eccetera tutte le cose che ha detto Gian Diego. È ovvio che fare una rivendicazione a questo riguardo vuol dire fare una rivendicazione programmatica organica cioè la difesa delle condizioni di salute e delle necessità di salute dei cittadini in senso organico di quelli Covid e di quelli con patologie ordinarie di tutte le patologie ordinarie altrimenti non avrebbe senso cioè la battaglia che stiamo facendo è per il diritto alla salute mica per il diritto a non essere colpiti dal virus che è ovviamente anche questo un diritto ma fa parte insomma della condizione di salute complessiva questo è il quadro entro il quale stanno i due capitoli centrali di cui parlava la Silvana sia quello riguardo a quest'autunno sia quello più generale della struttura del sistema sociosanitario territoriale ho finito Ok grazie adesso ho chiesto Gianni di intervenire prego volevo intervenire su alcuni punti che mi sembrano importanti in questa fase uno di questi ad esempio è il problema dell'RSA noi in questa fase abbiamo una situazione in mele residenti sanitario che è quella di un 30 35 40% di post piletto libero per cui sostanzialmente potrebbe essere una opportunità come è stata vista prima nella prima fase per poter accogliere pazienti e poi nell'ipotesi di un ritorno sta roba qui va assolutamente va assolutamente fatta una lotta per vietarla bisogna chiarire fino ad ora secondo me tra le richieste che faremo nostro che è quella che le residenze sanitarie per le caratteristiche per le caratteristiche dei degenti che ci sono dentro devono essere assolutamente non coinvolgibili a nessun prezzo nell' affrontare i problemi covid nonostante tutti gli amministratori in questa fase sono assolutamente preoccupati perché i posti liberi i posti vacanti che hanno vuol dire bilanci disastrate a fine anno quindi questo ragionamento sull'RSA deve essere un ragionamento di carattere radicale non ci possono essere compromessi nella prima fase il ragionamento fatto con le strutture è stato quello perlomeno quelle strutture che hanno dei di spazi disponibili separati dagli altri potrebbero accogliere questo potrebbero accogliere a causa di disastri che sappiamo perché nell'RSA il personale i medici intervino intervino ruovano in tutti i reparti non solamente in quelli dove c'è presente il codice non e quindi si trascinano i problemi da un reparto all'altro e quindi questo è sicuramente uno degli elementi rilevanti sul quale dobbiamo premere molto secondo ragionamento anch'io sto percorrendo volevo percorrere per un secondo il ragionamento fatto da Andrea sui pazienti non-COVID sulla ripresa da parte del futuro sanitario delle attività ambulatoriali per le persone che hanno cronicità o hanno patologie non-COVID e che sono state estromesse espulse dai servizi per tutti questi mesi in questa fase pian piano si sta riprendendo ma vi assicuro per chi lo sta vivendo o per chi l'ha vissuto si sta riprendendo attenti talmente dilatati e talmente complessi da rendere molto difficile la ripresa dell'attività io ad esempio domattina sono chiamato una visita a Piacenza per un problema di cronicità quando arriverò là mi verrà imposto l'entrata da solo non posso farmi accompagnare dalla moglie o farmi accompagnare da qualcuno che possa supportarmi ed assistermi per perché questo sta avvenendo in tutti i casi per cui c'è una grande difficoltà per esempio tutti quanti vanno in ospedale o in una struttura specialistica per fare delle prestazioni di qualsiasi natura dalle ecografie alle radiografie alle taca alle insonanze vanno effettua gli esami senza avere un minimo di tracciato del loro progresso perché proprio gli è vietato l'accesso di personale di supporto e anche questo è un grosso danno che viene fatto all'attività normale di ripresa dei non-covid mentre dall'altra parte oppure il discorso dei medici base voglio dire in tutti questi mesi i medici base hanno cito senza avere un progetto un programma di attività dato dall'APS ognuno si è arrangiato un po' come ha potuto sono stati molti contatti telefonici sono stati molti contatti senza come si può dire senza un rapporto diretto non è più stato possibile andare in un ambulatorio medico per farsi visitare per ragionare con il medico per i nostri problemi perché dopo i primi problemi i medici di base sono di fatto chiusi nel loro ambulatorio e i contatti che io ho personalmente sono tramite mail o tramite telefono io non ho più visto nessuno rispetto a queste cose di contrasto nella stessa fase e nello stesso periodo in molte strutture presente sul cremonese i ragionamenti che si stanno facendo sono ragionamenti che sono riferiti agli ospedali ancora una volta agli ospedali i ragionamenti che vengono fatti vengono fatti in prospettiva per riorganizzare e ridare vita agli ospedali a cremono su due mesi che i ragionamenti che vengono fatti sono quelli per la costruzione di un nuovo ospedale non stiamo parlando di un progetto di un programma che ci tuteli e che ci permetta di evitare nei prossimi mesi un possibile ritorno delle ma stiamo ragionando e approfittando del fatto che in questa fase stanno girando soldi a Iosa perché stanno girando soldi a Iosa per fare ragionamenti ipotesi di ragionamenti che puntano ancora su come risposta complessiva ai bisogni di salute di sanità adeguata per i nostri territori sulle strutture dei grandi ospedali e questo tra le altre cose è guidato prevalentemente che prezzi in modo particolare dai direttori generali noi spesso si è detto che non sarebbe stato possibile mettere nelle mani di chi ha gestito la sanità di chi ha rovinato la sanità prima il riordino sanitario successivo ma quel che sta avvenendo è un ragionamento di questa natura qui la regione Lombardia sta ragionando su mettere in campo 3 miliardi di finanziamento per la restituazione degli ospedali ecco questo mi sembra che sia tutto meno che una priorità chiudo grazie adesso ho iscritto Franco Tonon prego io volevo dire che sto ascoltando degli interventi molto interessanti così come interventi interessanti che mi hanno fatto capire molte cose e li ho ascoltati nell'altra riunione che noi abbiamo fatto però francamente io credo che il gruppo di lavoro deve essere un'altra cosa avevo inteso così perché se no allora tanto valeva fare una nuova assemblea pubblica e tutto il coordinamento e continuare in questo senso noi ci siamo detti anche che dobbiamo dare un po' una spinta concreta alle cose che ci stiamo dicendo io penso che in tempi non lunghi ma molto stretti noi dobbiamo se possibile da settembre presentare una piattaforma di istituzioni una piattaforma di analisi rivendicativa alla società rodigiana e proprio per questo penso che il gruppo di lavoro serva a questa faccenda qui serve a accelerare la discussione e serve anche a stendere una piattaforma che io chiamo rivendicativa sapendo che non potrà comprendere tutto il quadro delle iniziative che vanno fatte per tutelare la salute cioè noi non possiamo fare l'elenco dei problemi della salute se no passiamo mesi a parlarne perché oltre a quelli che abbiamo detto certo c'è i problemi dei malati cronici dei tempi di attesa c'è il problema dei ticket c'è il problema dei costi della qualità dei farmaci c'è il problema non so della salute della sicurezza del lavoro c'è il problema della ricerca dei farmaci della cura della matriagra sono tantissime queste questioni però io penso che dobbiamo come avevo inteso e abbiamo detto nella riunione plenare di tutti quanti stendere una piattaforma rivendicativa che sia capace di intervenire su una necessità più urgente e questa faccenda del ritorno del covid è sicuramente una necessità urgente che coinvolge tutto il mondo del lavoro coinvolge tutta la gente che vive nel paese dell'Odigiano che sia capace di ragionare anche sulle strutture ospedaliere non solo sugli ospedali ma come è stato detto anche la volta scorsa sul numero di qualità dei sanitari che operano che sia una piattaforma che certo parli della medicina territoriale come diceva adesso Grazioli sul tema dell'RSA però partendo da alcuni interventi urgenti sui quali informare e immobilitare i lorigiani proprio penso che il gruppo di loro debba fare questa roba qui poi il resto secondo me verrà di conseguenza se funzionerà il coordinamento se sarà capace di coinvolgere i cittadini soprattutto se sarà capace di raccogliere dei risultati nelle richieste che fa ecco io invito a muoversi in questo senso grazie grazie allora adesso ancora Gian Domenico vorrebbe precisare prego io io non credo che ci sia ti stacco quando noi parliamo quando noi parliamo della questione dei cronici e quando noi parliamo del covid non è un caso che siano morti che siano morte le persone con tre patologie non è un caso che siano morti i fragili questo e non è un caso che molte morti siano passate sotto covid ed erano delle morti che non dipendevano dal covid io credo io credo che rimandare a domani il discorso dei cronici e il discorso del territorio sia una gravissima omissione all'interno di un discorso di questo tipo perché se no è un discorso monco è un discorso dettato dalla paura è un discorso dettato da un'emergenza che vogliamo a tutti i costi e che in realtà non risolve ma parla solo del sintomo e cura unicamente quello che vediamo di più ma non risolve il problema e non parla soprattutto della sanità ho finito grazie allora adesso Simonetta prego sì grazie 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 anche a tutti gli interventi che ci sono stati e che sono sicuramente tutti preziosi e chiarificatori io sono molto d'accordo con Franco che penso che non volesse escludere tutto quello che si ha detto prima ma richiamarci un po' a una sorta di piano concreto insomma di lavoro e sono d'accordo soprattutto perché sui social in questi ultimi settimane si avvertono tantissimi disagi tantissime persone cittadini che appunto denunciano una serie di manchevolezze una serie di disagi io credo che queste persone abbiano anche proprio bisogno di capire di sapere che c'è un comitato che ci sono dei cittadini a cui possono rivolgere anche queste cose e che portano avanti dei discorsi che riguardano appunto il diritto alla salute che sia per i cronici che sia per chi ha il covid che sia per prepararci a settembre però vedo che veramente sui social ci sono tante lamentele adesso non ultima quella cosa che avevo segnalato sia a Giovanni che a Silvana il fatto che a Lodi ancora oggi non è stato riaperto il reparto di emodinamica ancora oggi sul cittadino c'era un trafiletto che diceva che stanno aspettando una delibera della regione però ho sentito anche alcuni medici lamentarsi in maniera piuttosto arrabbiata per questa chiusura che non ha più senso non so neanche se avesse avuto un senso comunque probabilmente sì però adesso sta provocando numerosi disagi perché gli infartuati vengono derottati in altre strutture e poi volevo fare e quindi credo ecco che proprio messo a punto un piano in cui questo comitato diventa un po' anche un punto di riferimento per il territorio e per quello che sta accadendo nel territorio l'altra cosa che volevo segnalare era riguardo a quello che diceva Silvana l'annuncio dei test che verranno fatti i test serologici anche su questo io ne parlo assolutamente da profana perché non ho le competenze per poter giudicare però dico solo le voci diverse che ho sentito per cui mi piacerebbe anche qui avere un parere perché credo che sia importante Silvana diceva tutti i comuni dovrebbero aderire non tutti hanno aderito però ci sono anche alcuni medici alcune persone anche più esperte insomma di me che dicono ma perché ATS non ha che scopo ha fare adesso i test serologici ha solamente uno scopo epidemiologico o uno scopo preventivo adesso in questo momento sembra non avere tanto uno scopo preventivo visto che poi fatto il test fatto il tampone se anche uno è negativo il fatto di poter adesso girare andare in vacanza non ci dà la patente di immunità quindi che valore può avere in questo momento estendere un test che peraltro sarebbe su base volontaria quindi non darebbe la possibilità di un tracciamento effettivamente in maniera scientifica in maniera precisa di tutto quello che sta succedendo anche perché alcuni comuni ci sono posti il problema dei costi di questi test e tamponi in previsione di tutto quello che dovranno sostenere a settembre di costi in generale di sostegno alle famiglie di sostegno a tutta una serie di crisi che si sono generate utilizzare dei fondi perché pare che tocchi poi ai comuni per questi test ci si chiede ma sono veramente in questo momento utili e necessari certo se lo sono si fa però c'è un dubbio il fatto poi che ci sia anche un costo per i cittadini questo non è assolutamente giusto insomma se ATS vuole fare un tracciamento si prenda la responsabilità anche dei costi o se la ragione vuole fare un tracciamento è giusto che si prenda anche la responsabilità dei costi quindi questa cosa che è imminente perché appunto i comuni stanno aderendo o non aderendo sarebbe importante fare luce e soprattutto chiedere a regioni ATS qual è l'obiettivo qual è il progetto di questi test che obiettivo hanno effettivamente e chiarirlo per rendere più consapevoli tutti se effettivamente è necessario o non è necessario ecco solamente questo grazie grazie adesso ho chiesto di intervenire Giovanni Bricchi prego sì buonasera a tutti ma io sono sto sentendo tanti interventi sulle questioni nel merito delle questioni come nella plenaria del 2 di luglio e anch'io non so chi l'ha detto prima avevo capito dall'introduzione di Silvana che noi stasera dovevamo discutere più su come organizzare i nostri lavori per cercare di arrivare quanto prima alla stesura della piattaforma del comitato che mi sembrava di ricordare mi sembrava di ricordare dalla riunione plenaria del 2 di luglio che non era che i tempi non si taravano su settembre bensì dal punto di vista della presentazione della piattaforma a fine luglio cioè a fine luglio noi ci siamo dati un appuntamento per cercare di licenziare la la piattaforma del del comitato in modo che le istituzioni i cittadini già prima dell'estate vengano a conoscenza di questa nostra piattaforma e e quindi da settembre si possono cominciare a lavorare per applicare i punti che questa nostra piattaforma potrà contenere e mi sembra che lo schema che ha riassunto la Silvana all'inizio contenga già delle priorità questa questa questione che ricordava anche adesso la Simonetta dei test sierologici tamponi questa addirittura andrebbe affrontata immediatamente perché già nei prossimi giorni si attiverà questa questa situazione ma poi il problema principale è proprio il tema della possibilità di ritorno della pandemia in autunno e quindi quali sono gli elementi da mettere immediatamente in atto per cercare di difenderci da da questa da questo possibile ritorno io forse lo davo per scontato però ho fatto bene Gian Diego a riprendere questa questione l'attività sanitaria ordinaria non può essere qualcosa cioè il ritorno ad un'attività sanitaria ospedaliera ordinaria pur con le difficoltà del distanziamento e tutte le difficoltà che ha introdotto il covid non può essere disgiunta dalle cose che si devono fare per difenderci da un possibile ritorno della pandemia questi due questi due elementi queste due situazioni vanno tenuti assolutamente insieme perché ovvio che siamo un comitato per difesa della salute e quindi le persone cittadini purtroppo non non hanno come unico problema di salute il covid ma ne hanno tanti altri quindi è evidente che queste due situazioni vanno tenute insieme io non entro nel merito delle varie situazioni perché come ho detto all'inizio questa questa riunione credo debba avere un taglio più di tipo organizzativo dico solo che banalmente ci sono banalmente ma non tanto ci sono degli obiettivi immediati che sono quelli che ci dà per esempio il fatto che c'è una ci sono dei decreti legge che sono stati fatti e che parlano di riordino della medicina territoriale riordino della rete ospedaliera che stanziano delle risorse ci sono delle delibere regionali che recepiscono questi decreti e che stabiliscono già come utilizzare queste risorse noi siamo sappiamo tutti che siamo in Italia cioè un paese dove spesso le cose si scrivono bene ma poi non si applicano per cui banalmente noi fra i primi obiettivi che ci dobbiamo dare secondo me sono quelli intanto di informare la gente che ci sono già delle risorse messe a disposizione per realizzare alcune cose rispetto al riordino sia della sanità della vendicina territoriale sia della rete ospedaliera e poi dobbiamo mettere queste rivendicazioni quelle che hanno a che fare con le terapie intensive con l'adeguamento dei protosoccorsi con l'assunzione dei medici e degli infermieri perché ci sono risorse già stanziate per questo e mettere queste cose nella piattaforma e poi controllare e vigilare che queste cose vengano realizzate cioè noi oggi abbiamo una delibera regionale che ci dice già quanti posti letto in terapia intensiva o semi intensiva dovranno essere realizzati nell'Odigiano e quante centinaia di migliaia di euro o milioni di euro verranno stanziati per questo o per ristrutturare il pronto soccorso di Lodi il secondo pronto soccorso che dovrà essere reso strutturale dove adesso c'è la radiologia dove è stato fatto il cosiddetto pronto soccorso percorso pulito dei mesi dei mesi covid e lì abbiamo già degli stanziamenti che la delibera regionale mette io in questi giorni mi sono letto un po' la delibera e lì i numeri sono tutti chiari sia i numeri dei posti letto sia gli euro che vengono messi a disposizione così come l'altra volta si discuteva anche sul fatto che non ci sono cioè si rischiano di fare si rischia di fare i posti letto e poi che non ci siano medici e infermieri per gestirli questi posti letto sui medici sicuramente è un problema più grosso sugli infermieri gli infermieri sul mercato ci sono abbastanza e le norme che sono uscite recentemente stanziano risorse per l'assunzione di questi infermieri per non parlare del fatto che nei mesi di marzo aprile maggio nei mesi di in cui il problema covid è stato più acuto noi non solo a Lodi in tutti i territori della Lombardia e anche l'Italia presumibilmente abbiamo acquisito un patrimonio che non dobbiamo disperdere lì purtroppo li abbiamo chiamati eroi i medici e gli infermieri sono stati diciamo così buttati nella mischia e hanno fatto formazione sul campo per cui oggi sicuramente questi operatori andranno ulteriormente formati sull'affrontare su come si affronta la pandemia però intanto loro si sono formati sul campo e quando se speriamo di no ma in autunno dovesse tornare la pandemia il piano in quattro fasi che prevede la delibera regionale cioè che man mano dovesse incrementarsi il problema della pandemia si sale ad un livello di di urgenza maggiore quindi vengono chiuse delle attività dei reparti vengono reinvestiti questo personale per gestire la pandemia questo è una è un patrimonio che noi di cui noi dobbiamo tenere conto anche per quello che diceva Gian Diego prima cioè per cercare di far funzionare il più possibile le attività ordinarie anche se dovremo saremo costretti a riattivare in modo pesante le terapie intensive i reparti di semi intensiva e i reparti covid ecco io poi non vado avanti nel merito perché l'ho detto all'inizio questa per me dovrebbe essere quello di stasera un momento più di tipo organizzativo dove decidiamo cosa fare sui vari capitoli diciamo così che ha messo in ordine Silvana all'inizio e decidere come affrontarli in modo da arrivare in questo mese possibilmente alla predisposizione della nostra della tua grazie costantino bolis prego buonasera a tutti ciao allora io sono d'accordo sul sul metodo nel senso che soprattutto sull'intervento che ha fatto prima franco tononi simonetta pozzoli ma anche altri allora è importante decidere soprattutto il problema è complesso ci sono tantissimi problemi c'è il problema dell'eventuale ritorno covid c'è il problema della situazione attuale che è precaria come è stato sottolineato da alcuni per case di riposo per i disabili e aggiungo anche se è stato detto già così per le risposte che sono mancanti ancora oggi e che si trascinano da mesi per le persone che non sono affette da covid ma che hanno bisogno di completare o la diagnostica oppure fare degli interventi che sono rimandati da mesi allora io direi dobbiamo decidere intanto una priorità di questi argomenti senza nulla togliere alla paura del fatto di un ritorno del covid però la sfera di cristallo mi sembra io non sono assolutamente né un virologo né un epidemiologo né niente però non ce l'ha nessuno per cui non sappiamo se si ripresenterà se non si ripresenterà adesso star qui a farci scusatemi delle mentali delle cose mentali a decidere cosa succederà cosa faremo e via certo una sollecitazione ad essere più pronti di prima è giusta io sono convinto anche che l'esperienza che c'è stata comunque sicuramente renderà meno drammatico qualsiasi ritorno di un'epidemia dell'epidemia ma mi sembra invece molto più importante concentrarci e qui è la realtà sui problemi di oggi i problemi di oggi che conosco meno la situazione delle case di riposo ma la immagino so benissimo la situazione dei disabili perché ho tanti amici che ci lavorano dentro anche medici e compagni anche a Lodi in che situazioni sono e va bene però non è il mio settore per quanto riguarda invece il discorso che abbiamo fatto nell'altra volta medicina di famiglia e ospedali e connessione fra i due e questo mi sembra una priorità importante perché scusate per essere proprio concreti se uno di voi adesso ha bisogno di ricoverare sua mamma o se stesso in ospedale a Lodi non sto parlando di è un problema è un problema enorme se anche chiamo io ecco forse mi rispondono forse mi rispondono al telefono perché sennò c'è già tutto pieno e siamo in luglio immaginate a ottobre novembre a covid a parte quando ci sono le influenze le problematiche respiratorie le malattie che si riacutizzano non covid che già sono anni che ci sono problemi per trovare i posti letti medici e se anche devi ricoverare tua mamma tu che sei il medico devi chiedere un favore figuriamoci gli altri cioè che cosa succederà adesso allora questi sono le realtà in più ci sono persone che stanno aspettando da mesi per fare completamento diagnostico e trattamenti interventi alcuni importanti altri meno però ripeto anche la catarata per uno che non ci vede è un intervento importante scusate anche se non è un tumore però se uno prima doveva aspettare sei mesi adesso mi ha detto De Micheli che deve dire un anno e due il primario dell'oculistica cioè io penso che queste sono cose assurde e questo è il problema concreto di oggi l'emodinamica io non sono in ospedale per cui sto alla Pravda nodigiana cioè al cittadino all'amica Cristina Vercellone l'emodinamica abbiamo chiesto la riattivazione siamo in attesa dell'autorizzazione regionale sono passati sette giorni l'emodinamica è ancora chiusa ma chi ha l'angina da fare l'angioplastico l'infarto in questi sette giorni c'è stato allora questo qua tanto per dire allora io direi che forse converrebbe come priorità anche nostra così di questo gruppo di lavoro se si farà una sollecitazione importante su questi problemi perché così secondo me gli ospedali pubblici se si prolunga questa situazione per altri tre o quattro mesi alcuni sono destinati alla chiusura allora come dico bisogna parlarne con calma non voglio essere travisato l'ho detto anche l'altra volta però se a Lodi è necessario ridurre i letti per il problema del covid le zone grigie che devi tenere però l'ospedale di Codogno per esempio ci sono un blocco operatorio con quattro sale operatorie perché lo conosco benissimo perché diciamo la la progettazione l'ho fatta io nel 2000 di questa cosa qua quattro quattro sale operatorie perfettamente attrezzate ne sta funzionando una due giorni alla settimana allora è indispensabile non dico in agosto perché in agosto anche prima del covid in Italia si è sempre fermato tutto ma che da settembre almeno la chirurgia di day e week surgery se a Lodi non c'è il posto che venga portata a Codogno però se uno ha un'ernia da fare santo cielo bisognerà fargliela o dove lo mandiamo a fare l'ernia questo è un po' i discorsi che bisogna cercare di mettere di mettere in fila poi c'è il problema grosso che c'è bisogno anche degli specialisti è vero che per gli infermieri ci sono meno problemi per i medici ci sono dei grossi problemi adesso anche adesso ho sentito ancora sui detti di terapia intensiva a Codogno la terapia intensiva è aperta però mi diceva proprio prima nel pomeriggio un mio collega mi ha detto sì ha cominciato la cooperativa mi ha detto ma hai visto chi sono che faccio e hanno no è uno che fa le notti ne fa 7-8 dietro fila però questo non è un sistema che può andare avanti può tamponare 15 giorni ma non costruisce niente uno che monta e smonta e che arriva in modo mercenario in una realtà e non porta niente e non sa neanche come si fa a chiamare quasi al telefono in pronto soccorso per cui ecco questi sono i problemi di tutti i giorni allora io penso che si debba pretendere un'accelerazione per ritornare a lavorare almeno in modo non dico uguale a prima ma non uguale a prima ma comunque simile a prima per quanto riguarda almeno la medicina e la chirurgia ordinaria i medici di famiglia mi dicono che si chiamano anche lì non sanno io ho parlato ieri con i medici di famiglia del mio paese ma ho chiamato l'ASL di uffici di Casal Pusterlengo perché ho bisogno delle cose urgenti non riesco neanche a parlare ma è vero perché io avevo bisogno anch'io un'informazione sono entrato prepotentemente mi hanno detto no no ah scusi dottore no ho bisogno soltanto un numero di telefono e sa bisognerebbe prendere l'appuntamento per avere il numero di telefono un numero verde per aggiustare un materasilo antidecubito queste sono le realtà di tutti i giorni in cui bisogna riprendere la normalità prima di pensare a cosa succederà con la seconda con la seconda ondata non vado avanti però guardate che questo qua è un problema perché sta diventando una cosa drammatica questa nella sanità il catasto è chiuso l'ufficio dell'entrata è chiuso in questura stamattina l'odi per il permesso di soggiorno c'era il mondo c'era il mondo e per avere una risposta anche qua vabbè meno male che conosci qualcuno ma chi non conosce nessuno aspetta attende aspetta attende aspetta attende cioè questo è quello che secondo me è urgente se dobbiamo forse perché faccio l'anestesista sono sempre stato capaci di mettere un po' in fila le priorità oggi le priorità sono queste qua anche sulla medicina anche di famiglia su queste cose sugli ospedali sul fatto di riattivare i servizi normali non è possibile che uno che deve rinnovare la patente c'è da fare un romanzo cosa c'entra con il covid attacca il covid anche adesso scusate va bene la tutela dei lavoratori ma attacca il covid anche andare a chiedere il rinnovo della patente o chiedere il cambio del medico cosa fa vola il covid su queste cose qua secondo me penso che è questo questi sono i punti per cui se volete su un gruppo di lavoro per parlare di questi argomenti per capire che cosa suggerire e anche come collaborazione fattiva non come polemica anche alla dirigenza che magari magari come ho detto un'altra volta continuano a cambiare speriamo che quelli che restano almeno che ci sono da sempre che diano una mano speriamo possiamo fare qualcosa altrimenti sul resto penso che sia un po' adesso un po' di aria fritta proprio a concentrare su che cosa succederà se ci sarà la seconda ondata e se poi la seconda ondata è a gennaio al posto che a settembre cosa facciamo aspettiamo fino a gennaio così scusate la frammentarietà però io smetto qua poi riparliamo grazie grazie adesso Giovanni Cortellessa prego allora dunque io voglio fare una brevissima nota sono pienamente d'accordo con chi ha chiesto di che in questa riunione di gruppo di lavoro quindi non di assemblea generale ma di gruppo di lavoro si faccia un po' più praticamente un discorso organizzativo e che possa portare a qualche proposta precisa di rivendicazione noi una bozza di rivendicazioni le abbiamo le abbiamo già discusse le abbiamo presenti potremmo partire da quelle e cominciare a fare delle proposte più precise in modo che siano delle cose pratiche poi da poter attuare da poter divulgare proprio a questo proposito dico finora abbiamo mandato in giro a tutte le in tutti i modi questa informazione sulle proposte che vengono fatte ma non ne ha parlato nessuno io non ho visto niente sui giornali né delle proposte che erano state fatte prima né delle cose che sono venute fuori dall'assemblea ma al grado a tutti quelli che si a tutti i giornali a tutte le situazioni che potevano pubblicizzare questa cosa fossero state segnalate si parla di situazioni particolari di situazioni eclatanti ma non si parla dell'attività che bisognerebbe fare a mio parere una delle cose che bisogna discutere nel gruppo di lavoro per presentare delle proposte precise nell'assemblea poi alla fine di luglio è anche come fare in modo che queste cose che noi discutiamo non siano cose chiuse nel nostro gruppo ma siano cose che vengono poi discusse anche da tutti gli altri che possono essere lette sui giornali che possono essere pubblicizzate in linea generale questa era la nota che volevo fare e mi pare che il gruppo di lavoro dovrebbe essere un filino più concreto e come dire e fare delle proposte di cose da fare praticamente ho finito grazie adesso Silvana prego mi pare che la discussione abbia preso un orientamento importante insomma che al di là della mia introduzione che era un po' una sintesi della discussione dell'assemblea e quindi teneva presenza un po' il volantino di convocazione dell'assemblea e del coordinamento e un po' la discussione che era stata fatta la volta precedente però stasera sono stati fatti degli interventi importanti che hanno precisato cose che c'erano ma che abbiamo messo in evidenza con concretezza insomma quando Gian Diego ha posto il problema e Bollis lo ha ribadito nei termini molto concreti dal punto di vista della realtà quotidiana penso che noi abbiamo due problemi io non ne scatterei né uno né l'altro sicuramente è importantissimo cioè è prioritario importante il tema posto da Gian Diego e da Bollis sulla questione della ripresa della funzionalità della cura nel nostro territorio che passa attraverso le attività specialistiche le attività ospedaliere le attività di presa in carico delle persone croniche ma anche degli acuti insomma nel senso che uno può avere un infarto senza aver adotto una malattia cronica o piuttosto qualche l'appendicite eccetera eccetera e quindi deve trovare il posto nell'ospedale però non scarterei è vero che non abbiamo la sfera magica per dire se in autunno o in altro periodo dell'anno ci sarà il ritorno però direi che non dobbiamo abbassare la guardia neanche su questa questione e quindi provare a tenere insieme questi due aspetti dal punto di vista della rivendicazione non so mi veniva in mente che se dobbiamo fare un passo in avanti rispetto alla discussione di stasera continuando ovviamente non è che finita si continua ancora però per dare uno spazio di lavoro al gruppo e quindi una concretezza al gruppo non so si potrebbe arrivare una prossima riunione con qualcuno che scrive le cose che si sono necessarie dal punto di vista della ripresa dell'attività ospedaliera e dell'attività generale quindi della presa in carico delle persone con malattia compresa la cosa che io ritengo importantissima che ha detto Bolis di sviluppare la medicina di comunità di puntare sul medico di medicina generale e la medicina generale in collegamento con l'ospedale quindi quale collegamento devono stare queste cose quale rapporto devono stare quindi dicevo questa roba qua ma anche con la necessità di fare in modo che tutte le cose necessarie perché non succeda più il casino che c'è stato l'altra volta sono anch'io d'accordo che adesso la struttura è un po' più preparata però non possiamo lasciar correre niente secondo me e quindi tenere in piedi le due questioni quindi qualcuno che lavora su questa cosa qua del covid mette giù sviluppa un po' la roba del volantino di convocazione e scrive qualcosa in più e qualcuno che traccia le cose non so Costantino se tu te la senti o Gian Diego c'è qualcuno che da dentro cioè che conosce la struttura che dice le cose che hai detto stasera in mezza pagina insomma che diventi la traccia di lavoro del su cui almeno ragionare concretamente per la prossima volta averle prima queste due momenti in modo che le facciamo girare e ognuno prova ad approfondire in modo che facciamo una discussione concreta sui due pezzi tenendoli tenendoli insieme sapendo anch'io caricherei la parte della ripresa dell'attività di importanza insomma per come è stata spiegata stasera non so cosa ne pensate però ecco diamoci una scadenza di lavoro ma anche una modalità di lavoro perché altrimenti se riprendiamo la discussione anche adesso o la prossima volta su ognuno parla un po' la sua propensione non andiamo avanti forse se riusciamo a mettere in piedi delle tracce di lavoro riusciamo a concretizzare anche meglio la prossima volta non so cosa ne pensate ho finito grazie ho ancora Samuele Garini prego sì faccio un intervento conclusivo volevo rilasciarvi a quello che stavate dicendo che bisogna trovare delle cose concrete da fare io faccio la mia proposta che dovremmo costruire un gruppo di studio il quale gruppo di studio dovrà sviluppare un documento complessivo in cui spiega esattamente sia la parte della struttura sanitaria territoriale come si è evoluta e del perché ha deficitato così tanto durante la crisi pandemica dal quale si sviluppano poi le nostre proposte dalle quali noi ne traiamo le parole d'ordine ne facciamo un volantino e apriamo una campagna di volantinaggio e di presidi e di azione di massa volevo sapere se eravate d'accordo su questo e chiudo qua e proprio vi saluto vi saluto proprio che vado via grazie adesso Gian Diego prego io sono abbastanza d'accordo con Silvana rispetto alla scalettatura della questione volevo porre un'altra questione che è quella dei medici di base secondo me Bollis ha fatto una brevissima escursione su questa cosa ma è estremamente importante i medici di base i medici sono secondo me la prima linea di prevenzione il medico di base di Nembro con zero contagiati che è stato che ha riempito i giornali ha una sua motivazione certo è stato fortunato probabilmente era destino che non avesse contagiati però la capacità di intervenire quando la malattia è in fase iniziale e di individuare i sintomi quando ancora sono iniziali di intervenire immediatamente si è dimostrata nell'esperienza e comunque nella rilevazione scientifica vincente assolutamente rispetto al contenimento della pandemia sono d'accordo con il ragazzo che ha parlato del fatto che non si potrebbe e sarebbe meglio non avere un altro lockdown che sarebbe deleterio per tutti per cui secondo me nella scalettatura senza dubbio individuare un ruolo per i medici di base e chiedere che i medici di base diventino il primo presidio e che siano in grado di farlo ovviamente non che solo che a parole divengano ma che abbiano la funzionalità in questo senso è fondamentale grazie ho finito grazie adesso ho chiesto Peppo prego sì penso che mi sentiate buonasera a tutti sono arrivato in ritardo perché sono in vacanza ecco ho sentito un po' tutto io penso che mi sentite no? pronto? sì sentiamo sì sentiamo sì non volevo fare piccole considerazioni forse perché sono in vacanza ecco mi stavo chiedendo al di là che è interessantissimo tutto quello che ho sentito finora ecco che la gente comune ecco che cosa ne pensa ecco di questo di quello che noi stiamo cercando di fare perché è lontanissima da tutto nel senso che se uno non è coinvolto direttamente ecco vede le cose molto 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 lontane molto molto sfumate ecco io che sono via per dirvi sento e vivo un attimo nel problema della mia comunità ecco perché si è parlato sensato dall'RSA si è parlato praticamente dei disabili ci sono anche le comunità terapeutiche ecco perché a tutt'oggi ecco oggi mi dicevano che qualcuno degli ospiti che noi abbiamo pesta i piedi ecco perché sono quattro mesi che non possono uscire si è ottenuto dopo diversi tavoli praticamente con la regione la TS eccetera eccetera di ottenere questo che praticamente possiamo permettere che qualcuno esca magari accompagnato come al gruppo distanziato eccetera eccetera oppure che vada anche a casa ma con la responsabilità che è tutta a carico della struttura cioè in questo caso se un domani succede qualcosa la responsabilità sarà mia quindi praticamente c'è un piccolo passo in avanti ma là dove c'è un programma terapeutico da concretizzare da portare avanti è tutto bloccato sia a livello lavorativo eccetera ecco perché perché chi si assume la responsabilità ormai la regione lombardia si è lavato le mani eccetera eccetera ecco se poi parlo praticamente delle varie visite specialistiche in queste ultime settimane per poter fare praticamente degli esami di ragazzi siamo andati a Stradella siamo andati a Varese siamo andati a Monza eccetera perché all'odio non era possibile altrimenti c'era di aspettare due mesi cioè a livello concreto il discorso secondo me è anche questo cioè del vedere che cosa praticamente fare adesso ancora già discorso fatto anche da Costantino eccetera eccetera cioè rispetto ovviamente alle strutture ospedaliere o sanitarie locali ecco perché praticamente c'è difficoltà di entrare in contatto sia a livello telefonico sia a livello di prenotare visite ecco è questo ed è una situazione che rischia di andare avanti per tutta l'estate ecco poi c'è il discorso del carico dei medici di base che molto spesso ecco ci dicono noi in comunità sono circa 40 persone e lo interpelliamo quasi tutti i giorni non che è stufo ma che praticamente dice ma io non riesco a mandarvi tutto cercate di aver pazienza cioè manca manca proprio questa possibilità di un rapporto continuo e diretto con le strutture sanitarie locali e secondo me questo bisognerebbe evidenziarlo poi mi chiedo come farlo arrivare alla gente ecco forse dobbiamo praticamente riuscire a farci sentire ecco perché praticamente al di là della regione che viaggia per proprio conto praticamente siamo molto non scopo loro di colopo praticamente lasciati soli ecco noi come strutture al di là che è ancora peggio della cittadina diciamo singolo ecco mi fermerei qui grazie grazie Andrea Viani prego io volevo tenuto conto di tutte le cose che sono state proposte tutti i problemi che sono stati sollevati imparare io ho fatto parte del gruppo che ha preparato la bozza di piattaforma imparare dalla discussione e dalle problematiche che sono state presentate lo schema della bozza di piattaforma era il covid di ritorno e la struttura socio-sanitaria territoriale che teoricamente astrettamente poteva anche essere come dire una linea guida utile gli interventi però hanno evidenziato una diversa condizione problematica credo che per quanto lo schema della bozza possa rimanere valido perché chiaramente le due questioni del covid della questione della struttura socio-sanitaria territoriale sono strettamente connessi sono problemi da affrontare tuttavia la possibilità o comunque la necessità di far fronte ai bisogni concreti credo che sia l'elemento ordinatore reale l'intervento di Bolis secondo me è assolutamente emblematico faccio una proposta propongo che la prossima riunione del gruppo di lavoro prenda in considerazione i problemi così come li ha posti proprio Bolis perché naturalmente Bolis ha composto alcune problematiche ma anche la questione sollevata adesso da Peppo in qualche misura si connette anzi non in qualche misura si connette effettivamente con le indicazioni di Bolis oserei dire che il titolo del prossimo incontro dovrebbe essere una parte della piattaforma che non ha bisogno di aspettare settembre ma che può essere avviata quanto prima appena siamo pronti ripristinare se non esattamente queste sono le parole di Costantino se non esattamente quello che c'era prima quantomeno l'indispensabile di quel che c'era prima cioè quella condizione che almeno garantisce una tutela concreta rispetto ai bisogni di sanità e di salute così come si presentano quindi io farei come punto immediato di discussione rivendicativo per la prossima riunione questo non vuol dire escludere le altre tematiche le altre problematiche per esempio il secondo punto secondo me dovrebbe essere quello del covid di ritorno non tanto per la questione del covid di ritorno ma perché le risorse che sono messe in campo allo stato attuale dallo stato e che sono già oggetto di decisione della regione attengono a questa problematica e quindi il rischio è che ci siano risorse disponibili che poi non faranno nessuna fine e dentro lì tra l'altro se riusciamo a costruire una rivendicazione questa rivendicazione può affrontare diverse problematiche che possono poi svilupparsi in senso positivo anche riguardo al tema più generale della riorganizzazione o dell'organizzazione del sistema sociosanitario territoriale tra l'altro appunto mettere assieme cioè partire dai bisogni immediati dal ripristino di quel che c'era o quindi almeno dell'essenziale di quel che c'era da un lato e dall'altro proiettarci su le proposte che già sono in campo da parte della regione dal punto di vista della loro attuazione secondo i nostri criteri questa cosa secondo me si sposa tranquillamente e tra l'altro è molto più efficace perché ci permette di agire vertenzialmente rivendicativamente o collaborativamente per carità ci mancherebbe se l'istituzione dice ok discutiamo nessuno si tira indietro se però l'istituzione ci dice no non si può perché in realtà noi non stiamo ripristinando quel che c'era la Lodi perché in realtà vogliamo che non ci sia più per esempio perché girano anche voci di questo genere se è così mi spiace ma non c'è nessuna collaborazione c'è semplicemente la contrapposizione delle necessità quindi io proporrei di fare questa cosa al prossimo incontro e aggiungo che sarebbe necessario fare una conferenza stampa del coordinamento visto che qualcuno sottolineava nessuno ci ascolta o perlomeno sembra che nessuno sia interessato ad ascoltarci è già il terzo tentativo di comunicare con la stampa locale riguardo a questi problemi e senza mai ottenere nessuna risposta beh facciamo una conferenza stampa deviso con i giornalisti e solleviamo esplicitamente diciamo il coordinamento e il gruppo di lavoro operativo si sta muovendo in questa prospettiva e a breve avanzeremo delle richieste precise su la condizione di bisogno e ripristino le condizioni pre-covid se non proprio nelle stesse condizioni e quelle delle condizioni essenziali e se ancora non ci ascolteranno vedremo il da farsi però intanto per chiudere all'ordine del giorno del prossimo incontro oltre al fatto che come diceva la Silvana chi ha delle proposte delle ipotesi di lavoro è bene che le scriva che così abbiamo dei materiali concreti magari mandandoli per tempo dei materiali concreti su cui riflettere oltre a questo però il prossimo incontro dobbiamo non lo ripeto le due cose la prima cosa fondamentale il ripristino della situazione anti-covid anti-covid e e poi lo sviluppo informativo e una battaglia immediata la richiesta immediata e poi lo sviluppo successivo niente direi quindi proporrei alla Silvana che in questa fase ha assunto il ruolo che la Rita non poteva di coordinare un po' il lavoro di fare una proposta di data per la prossima riunione verificando anche la disponibilità dei presenti naturalmente se ci sono altri che vogliono partecipare sono ben tra l'altro appunto a partire dalla conferenza stampa potremo aprire un'interlocuzione con i sindaci che sicuramente devono svolgere un ruolo cioè questi sindaci se no a parte che un gruppetto perlomeno ha cercato di dire qualcosa e poi provare a vedere se riusciamo ad avere i contatti con i medici di medicina generale noi come comitato abbiamo tentato di stabilire questi rapporti purtroppo i medici di medicina generale o perlomeno quelli che abbiamo contattati si sono erano piuttosto sfiduciati rispetto alla situazione reale e hanno detto ma non vediamo grandi prospettive però d'altro canto noi non possiamo mica pensare io per esempio soffro di aspergillosi e dovevo fare degli esami e chissà quando li farò chissà quando li farò per fortuna con la ginnastica respiratoria riesco ancora a parlare a dormire di notte però quindi direi che questa è la mia proposta ho finito grazie Costantino Bolis prego vedo vedo che ha la mano alzata ma scusa ho detto che l'intervento di Viani sicuramente ha fatto la sintesi più efficace e ha colto il cuore del problema io sono disponibile colgo la sollecitazione a collaborare purtroppo non ci ho un problema anche adesso devo togliere perché è un problema familiare e poi la settimana prossima non ci sono se Gian Domenico si presta a scrivere o a mettere giù e poi magari ci sentiamo io posso magari anche via mail volentieri collaborare non riesco in prima persona se parlate di adesso dei prossimi dieci giorni non ce la faccio proprio veramente per cui la disponibilità a seguire il problema volentieri però ecco se mi poi tramite Silvana che magari la sento anche domani così le forme per collaborare le possiamo trovare ecco non c'è problema grazie grazie dunque non ho più nessuno in iscritto proviamo a fare una sintesi se siete d'accordo possiamo pensare allora di provare a riformulare le priorità come dicevano come si diceva adesso e quindi fissare un gruppo di lavoro per la settimana prossima direi con il titolo ripristinare se non esattamente quello che c'era prima almeno l'indispensabile di quello che c'era prima con questa promessa di Bollis che si può raccordare a me o a Gian Diego e a Gian Diego soprattutto per mettere giù almeno i titoli delle cose che tu Costantino hai elencato stasera in modo tale che li possiamo riformulare dal punto di vista dell'essere problemi da aggredire almeno i titoli in modo tale che abbiamo una traccia di lavoro e non so io posso sentire qualcun altro che sistema invece la questione post-covid dal punto di vista della della come si chiama della definizione di una piattaforma un po' più compiuta in modo che comunque teniamo insieme le due cose sapendo però che la prima è sicuramente la questione prioritaria e questa è una prima questione potremmo fare una riunione settimana prossima non so se prendete l'agenda 14 15 17 facciamo il 15 mercoledì 15 va bene per me va bene va bene ho bisogno però della mail di bolis qualcuno me la dia si te la scrive lui allora te la dico subito prima di staccare costantino bolis tutto attaccato alice.chiocciolo alice.it grazie grazie fissiamo per mercoledì 15 alle ore 20 e 30 sempre con questa modalità che o attraverso Andrea o attraverso di me adesso magari mi impegno mercoledì 15 a fare una mailing list delle 50 persone che hanno partecipato 51 persone che hanno partecipato la settimana scorsa io direi facciamo un piccolo verbale e rimandiamo l'invito a tutti per il gruppo di lavoro in modo tale che teniamo sempre tutti collegati se qualcuno vuole seguire prima del 15 se ci facciamo girare questo documentino insomma le linee di possibile lavoro per il primo tema le linee di possibile lavoro per il secondo tema e poi non so per la conferenza stampa dite voi possiamo pensare di farla nei prossimi giorni è una conferenza stampa che annuncia che c'è è viso però costituito il coordinamento e che si pone questi obiettivi Andrea tu che hai fatto la proposta prova un po' a gestirla qui il problema è anche la comunicazione con con i giornali che io non ho più da no vabbè io posso sentire io Franco possiamo sentire la Vercellone il il giorno questo non è un problema bisogna fissare una data e capire chi viene chi c'è ma cioè vediamo possiamo chiederla la Laura per il cittadino no per il cittadino è la Vercellone che segue queste cose ok è perfetto beh io direi una o due persone di quelle che hanno lavorato alla preparazione della della bozza e quindi potrei essere io potresti essere tu Silvana qualcun altro del gruppo di lavoro potrebbe essere Giovanni Bricchi e farei Peppo anche che così rappresenta una situazione particolarmente discriminata che come dire incarna il quadro di tutti i soggetti più in maggiore difficoltà che sono in condizioni marginali normalmente marginali rispetto alla media della popolazione dell'Odigiano secondo me tre quattro persone al massimo per la delegazione Costantino tu non riesci ad esserci come? tu non riesci ad esserci io? no Costantino Bolli ah Costantino ho l'impressione che è andato Costantino si è già scollegato è andato è andato sono via io ci posso essere se volete ritorno allora cosa facciamo Silvana Peppo al posto mio potrebbe essere Enrico per esempio Bosani Bricchi e Bricchi e Francesca stasera non poteva sì giusto anche perché almeno una donna è bene che ci sia vabbè ma sono due se ci sei tu meglio se sono due donne meglio dai Francesca Bricchi Enrico e Peppo va bene? va bene va bene va bene troviamo la data dell'orario ma la troviamo poi sì quando la facciamo decidete voi io non ci sono secondo me l'orario è sempre attorno a mezzogiorno giù di lì o dopo subito dopo allora o lunedì o martedì verso mezzogiorno no martedì no o lunedì o martedì verso mezzogiorno unici e mezza dove la facciamo l'Odi eh sì necessariamente beh se a martedì l'Odi Comune Solidale eh? se è possibile l'Odi Comune Solidale no 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 facciamo diciamo il caffè letterario 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 martedì va bene intorno a mezzogiorno sì se la facciamo lunedì io chiederei di farlo un po' prima perché sono uno dei fortunati che deve andare a fare una visita e la posso andare a fare no martedì martedì la facciamo martedì alle 11.30 martedì 14 alle 11.30 sì va bene dove? al caffè letterario che così è un posto neutro va bene glielo dici tu a Francesca? a me va bene glielo dico io a Francesca sì 11.30 eh quindi la memoria mi difetta la prossima riunione è il 15 alle 20.30 15.20 e martedì la conferenza stampa martedì la conferenza stampa ok vi saluto allora intanto va bene ciao ciao a tutti ciao a tutti grazie ciao ciao grazie Antonio della collaborazione ciao ciao Antonio Peppo dove sei in vacanza? non si sente a Pietraligua sono pronto? sì sì adesso sto sentendo scusa eh è nato a lui va bene ciao buona vacanza ciao ciao